E' un pomeriggio tranquillo, finalmente Guido Roberti, un'ottima Triestina. Era da tempo immemore che non avevamo un pomeriggio tranquillo qui al Rocco, una Triestina finalmente ficcante, frizzante, costante per 90 minuti contro una medio piccola. E dunque c'era da scongiurare questa tradizione negativa che ci vede spesso in difficoltà con squadre che non ci precedono in classifica per essere eleganti. Oggi, fin dalle prime battute, la Triestina ha dato l'impressione di poter dominare letteralmente il legnago sul piano del gioco e del ritmo. Certo, c'è una chiave indubbiamente decisiva nella vittoria della Triestina. L'apporto dei due terzini ha creato i presupposti per aprire il gioco, aprire i veronesi e garantire anche soluzioni diverse, varie, alla manovra offensiva. Cross da sinistra con Lopez, cross dalla destra con Lepore, movimenti coerenti delle due mezzali nelle rispettive corsie e un equilibrio che non è mai mancato. Dunque, elementi sicuramente che ci fanno guardare finalmente con ottimismo in quella che può essere l'applicazione di questa squadra e l'obiettivo di continuare a crescere nel corso del girone di ritorno e riconquistare posizioni che maggiormente competono e rispecchiano l'ambizione della società. Nel complesso ho visto una gara giocata bene dai volti vecchi di questa Triestina. Mi piace sottolineare come Procaccio, se doveva ritrovare la forma, l'abbia subito ritrovata, anche perché essendo un brevilineo chiaramente ci mette meno tempo, però star fermo quattro mesi non è mai semplice. Gli manca solo il gol e spero veramente per Andrea che possa arrivare presto. Confermo invece la sua importanza per questa squadra Gomez, ma la palma del migliore non può che andare a uno stratosferico Mirko Petrella che ha spaccato in due la retroguarda del Legnago e faceva a Trieste, diciamo, camera e cousina dei malcapitati veronesi. Due gol bellissimi, di pregevole fattura, ma sono forse la ciliegina sulla torta di una prestazione veramente di spessore da tutti i punti di vista, anche in fase di aiuto al centrocampo, non solo nel settore offensivo. dunque Mirko Petrella, migliore in campo e occhio a Ravenna alla prossima con l'obiettivo di trovare un altro risultato utile.